Ciao, sono Filippo Berto e sono il titolare di Berto. Faccio questo video per te perché sei un nostro cliente affezionato e ho una cosa molto importante da raccontarti. Sono in azienda da vent'anni e ho avuto la fortuna di imparare dalla prima generazione, fratelli Berto, Fioravante Carlo, mio padre e mio zio, che hanno iniziato la loro attività in questa città, Meda, negli anni 70. Meda è una città stropicosa, è la capitale mondiale del design, con secoli di storia alle spalle nella realizzazione degli arredi della più alta qualità per le case più belle del mondo. Quindi ho avuto questa grande fortuna di imparare da loro e di raccogliere questa sfida nel continuare a immaginare come accompagnare tantissimi clienti nel mondo come te nella trasformazione delle loro case e accompagnare i clienti nella realizzazione delle case dei loro sogni. Proprio per questo voglio raccontarti oggi una cosa molto importante. Tengo a te e voglio presentarti una cosa in anteprima assoluta ed è la nuova collezione di lenzuola in lino e cotone John e Yoko. Se ti stai chiedendo perché abbiamo deciso di realizzare una vera e propria collezione di biancheria per la camera da letto, ti accontento subito. La realtà è che sappiamo quanto sia importante coordinare bene tutti i dettagli di un arredo. Per questo motivo abbiamo creato Johnny Yoko, una collezione di lenzuola in lino e cotone che stanno perfettamente ad abbinarsi con quello che è la scelta del tuo letto e tutti gli elementi che lo controllano. In questo video voglio quindi darti dei consigli molto utili per creare la camera da letto dei tuoi sogni partendo proprio dalla biancheria. Ecco cosa scoprirai in questo webinar. La scelta del tuo letto non riguarda solo il look della tua camera. I dettagli fanno la differenza. Puoi avere il letto più bello del mondo, ad esempio come quello che hai sicuramente, ma senza la biancheria coordinata puoi ottenere un effetto contrario. Immagina questa scena, hai deciso di arredare la tua camera da letto scegliendo una qualità e uno stile eccezionale perché sei convinto che la qualità del tuo sonno dipenda anche dall'ambiente in cui riposa. Finalmente arrivi a casa tua e pensi che il progetto sia concluso in bellezza. Ti accorgi però di alcuni piccoli dettagli a cui tu non avevi dato importanza, dettagli di poco conto, a cui non avevi pensato, come ad esempio la scelta delle lenzuole. Ecco quindi che esci, vai a comprare un set di lenzuole, magari scegli uno stile che ti piace, un colore che ti piace, una fantasia, però torni a casa, lo provi e ti accorgi subito che le cose non funzionano. Un dettaglio come una piccola scala di colore, un grigio particolare e ti accorgi che un dettaglio che magari all'apparenza così poco significante può fare una grande differenza. Dico questo perché sono anni che realizziamo progetti per la camera da letto e finchiamo i nostri clienti per affrontare ogni singolo dettaglio. Ti sorprenderà ma la scelta della biancheria da letto è sempre stata l'unico per questo motivo insieme ai nostri ad eretto lo studio Castello Lagravinese, Mari Lagravinese e Alessandro Castello con il quale collaboriamo da tantissimo tempo e con il quale abbiamo realizzato anche il progetto del toletto, abbiamo deciso di realizzare una vera e propria collezione completa di biancheria da letto, perfettamente coordinata con la collezione di pelli e tessuti verde, con uno studio veramente approfondito sul colore. In questo modo saprai benissimo fin dall'inizio, fin dalla partenza che realizzerai un progetto bellissimo, perfetto, senza scivolare sull'abbinamento degli accessori. Il nostro obiettivo da sempre è quello di aiutare i nostri clienti a realizzare i loro sogni per quanto riguarda l'arredamento della loro casa e sappiamo benissimo quanto questo sia difficile senza incorrere in passi falsi o errori. Se mi seguirai scoprirai presto in questo video che realizzare il progetto dei sogni per la tua camera da letto è davvero molto semplice. Basta tenere a mente alcune semplici regole e soprattutto cosa non fai? Innanzitutto devi ricordarti che forse la camera da letto è l'ambiente più importante per quanto riguarda la tua salute e la scelta del letto è sicuramente il punto di partenza. Infatti devi darti il supporto adeguato grazie a materiali esclusivi per quanto riguarda aspetti con comfort e meraviglia. Ma non è tutto, il rivestimento gioco è un volo fondamentale per quanto riguarda sia la qualità che il look che vuoi ottenere. Devi sapere che curo personalmente la nascita di tutte le nostre collezioni, di divani e di letto e in particolar modo la nascita di ogni simbolo tessuto o pelle di una collezione verta. Faccio questo in compagnia dei nostri art director Castellola Gravinese, Alessandro e Mari perché insieme a loro costruiamo un team perfetto per far sì che ogni elemento della collezione, ogni singolo dettaglio sia realmente coordinato. Quando facciamo nascere un nuovo divano o un nuovo letto partiamo proprio dai rivestimenti e facendo così siamo riusciti a creare una gamma colori originale in perfetto stile vertu. Quindi questo è un aspetto veramente importante, il tessuto perfetto crea il divano o il letto perfetto. Il far nascere i nuovi prodotti, le nuove collezioni partendo dal rivestimento, andando a costruire, a realizzare ogni singolo rivestimento per i nuovi modelli è una cosa credimi che fanno un pochissimo perché è difficile, è molto lunga. Per quanto ci riguarda, per quanto riguarda l'Aberto, differenze magari degli altri, è l'elemento che ci contraddistingue e che fa la differenza. Si tratta proprio di andare in tessitura o in conceria con un progetto ben chiaro del futuro, divano o letto che vuoi far nascere e studiare ogni singolo filato nella sua composizione, nella sua consistenza, nella mano che deve avere perché il prodotto finale deve avere un'idea specifica di stile, di comfort a cui ti vuoi ispirare e devi crearlo. Devi fare tantissime prove su ogni singolo filato, sulla concia, sui bagni eccetera. E ti garantisco che questa è un'operazione che crea sicuramente tanta più qualità e ti dà tanta più soddisfazione nel risultato finale come avrai visto con il tuo letto, come sfogliando i nostri cataloghi, rispetto magari a scegliere dei tessuti già esistenti o prendendo da collezioni che già esistono sul mercato. Nel tuo caso è esattamente la stessa cosa, nel senso che hai comprato un letto, questo è perfetto, come volevi, elegante, comodo, ergonomico, ma con le lenzuola che avevi in casa ti accorgi che c'è qualcosa che non può. Per questo motivo abbiamo creato per te questa collezione di biancherie per la casa, si chiama John e Yoko, per far sì che tu abbia un abbinamento perfetto con il rivestimento del tuo letto e anche per evitare che tu vatti in giro a cercare delle alternative che poi non ti danno soddisfazione. Ti sarai reso conto inoltre che c'è un'offerta vastissima di lenzuola realizzate con materiali cosiddetti naturali. È inutile che ti venga a dire che non tutti i mini e i cotoni sono uguali. La morbidezza ad esempio ha un impatto diretto con la qualità perché è direttamente collegata ai finissaggi e questi possono darti problemi di allergia come ad esempio di traspirabilità. Le cose importanti quindi che devi tenere a mente sono due, la qualità dei materiali da un lato e dei filati, ma anche la qualità dei finissaggi. I nostri set sono realizzati chiaramente in Italia con filati di altissima qualità rigorosamente made in Italy e sono stati sottoposti a tutti i test per quanto riguarda sia la sicurezza che la qualità, chiaramente, che la sostenibilità ma soprattutto la salute. A questo proposito i nostri set in Nino John e in cotone Yoko sono realizzati con una particolare lavorazione stonewashed. È una lavorazione a pietre che permette per entrambi di migliorarne l'aspetto, la mano e le proprietà. E anche qui la scelta cromatica di ogni set è in perfetta sintonia con i tessuti e le pelli della collezione Verto, con l'obiettivo di ottenere un risultato di grande valore estetico e funzionale per la tua camera da Verto. Ecco perché le lenzuola sono molto più importanti di qualsiasi altro accessorio. Ciò che ti devi ricordare è che la scelta del letto riguarda il loop del tuo progetto, ma è il primo passo per ottenere un benessere che non ti nego ho provato in prima persona. Ovviamente tutto questo dipende molto dalla cura con cui scegli i dettagli e la biancheria da letto è la prima cosa a cui devi pensare. Sei un cliente Berto e so quanto ci tieni al design della tua casa. Per questo motivo ho creato, insieme al team Ricerca e Sviluppo di Berto, la collezione John e Ioto, per fare sì che tu possa ottenere il meglio. Ovviamente questo è un set esclusivo e non è adatto a tutti, ad esempio a chi non pensa che la qualità delle tinte o dei tessuti o dei finissaggi non abbia un impatto diretto sulla salute, magari per prevenire l'allergia. E magari si affida a chi spesso non dà garanzie affidabili sulla provenienza dei tessuti o dei colori o della qualità dei finissaggi. Questa collezione nasce proprio pensando a te. So quanto ci tieni allo stile e quanto sei attento alla qualità per i materiali della tua casa. John e Ioco nascono proprio per i clienti come te, che non si vogliono contentare. Il risultato sarà, ti garantisco, incredibile. Avrai un look bellissimo e una sensazione di puro benessere per il tuo riposo. I vantaggi sono molteplici. L'abbinamento con il tuo letto e i complementi dal redoberto funzionerà alla perfezione e la qualità del tuo riposo ne trarrà grandi benefici. Ma non è tutto. Siamo alla fine di questo webinar e fin dall'inizio, come avrai capito, abbiamo messo al centro te, quando abbiamo creato questa collezione di renzuola John e Ioco. E abbiamo pensato ancora a te, quando abbiamo pensato a un'offerta specifica per fare in modo che tu ti possa portare a casa John e Ioco con le migliori condizioni possibili. Per te che sei un nostro cliente affezionato, con l'acquisto di una collezione in lino John ti daremo in omaggio un set in cotone Ioco. Ma non è tutto. Ti daremo anche due federe della collezione in lino John, due guanciali in piuma e se sarai tra i primi dieci a rispondere al termine di questo webinar ti daremo anche un topper in memory. Richiedi ora tutti i tuoi bonus, così capirai immediatamente perché ti ho raccontato tutte queste cose. E ti sarà chiaro perché la scelta della biancheria da letto è un aspetto molto importante, sia per il look della tua camera che per la tua salute. Compila il form e richiedi ora un appuntamento con il tuo interior designer. Verrai contattato immediatamente e scoprirai come ottenere il tuo set di lenzuola e tutti i bonus che ti ho riservato. Sono Filippo Berto, ti ringrazio per aver partecipato a questo webinar. A presto!